I cittadini italiani ci chiedono di avere una giustizia certa, una giustizia veloce, una giustizia che risponda a quelle che sono le esigenze della giustizia europea, come dice qualcuno, nel momento in cui non si vuole dare, come dice anche giustamente Sansonetti, non si vuole dare ai magistrati il potere di far durare questi processi in eterno, non si vuole far sì che chi ha i soldi per pagarsi un avvocato bravo e magari un pochettino furbo riesce a far allungare il processo e magari invece chi non li ha è costretto a subire determinate situazioni, non può votare un provvedimento di questo tipo, non si può votare un provvedimento che invece allunga ulteriormente i tempi della giustizia, allungare ulteriormente i tempi della giustizia vuole dire ancora una volta intasare i tribunali, vuole dire non dare la possibilità a un indagato o un imputato di arrivare in tempi certi alla definizione di quello che è la pena a cui dovrà sottostare. Altra cosa che riteniamo importante e forse riteniamo anche ora più prioritaria di quello che è andato in scena alla Camera ieri è diamo dei tempi certi alla giustizia, dei tempi certi e delle pene certe, perché questa è una vera riforma della giustizia italiana, noi in questo momento non abbiamo delle pene certe e di conseguenza chi compie un reato può tranquillamente pensare che compie il reato più brutto del mondo e può tranquillamente pensare che in un modo o in un altro se la cava e quindi pensiamo che in questo momento le priorità siano altre, ripeto il giudizio che ha dato Sansonetti lo condividiamo al 100%.